Io mi chiamo Leonardo, ho vent'anni, sono nato e cresciuto a Sanremo, adesso vivo a Firenze, lavoro, studio all'università, cinema. Sono qua perché sono, oltre a tutte queste cose, quindi oltre a uno studente, oltre a un lavoratore, oltre a una persona che vive, che fa le sue cose nella vita, sono anche un ragazzo trans. Sono in terapia da tre anni adesso, in terapia ormonale si intende. La notizia di Maria Paola e di Ciro ovviamente ha sconvolto un po' tutta la comunità trans in generale. La mia reazione ovviamente è stata quella di essere scioccato dell'accaduto. Da un lato c'è stato lo sciocco iniziale della notizia, che è stata una notizia brutale. Dall'altra parte però le persone trans in Italia vengono uccise tutti i giorni. Cioè brutalità e violenza nei confronti delle persone trans ci sono all'ordine del giorno in Italia. L'Italia è la seconda in Europa per crimini di transfobia, di questa cosa nessuno ne parla. Questa cosa fa notizia quando succede un fatto tipo quello di Maria Paola e di Ciro. Ma in realtà io personalmente, che seguo su Facebook, su internet, pagine collettivi di persone trans, io leggo notizie del genere, non dico ogni giorno ma quasi, sconvolge che diventi virale questa notizia ma non diventino virali tutte le altre. Perché appunto, cioè perché non diventa virale ogni volta che una persona trans viene uccisa? Tra l'altro in questa notizia non è neanche la persona trans che muore, ma è la compagna della persona trans. Quindi voglio dire, fa caso, fa specie, però tutte le persone trans che effettivamente muoiono e vengono uccise di loro non se ne parla perché... Alla base degli atti di violenza nei confronti delle persone trans c'è sicuramente la transfobia, il fatto che le persone hanno paura del diverso. Più che la paura del diverso è la paura di un qualcosa che non capisco. Secondo me è la paura di un qualcosa che va fuori dalla mia vita, da quello che riesco a comprendere, da quello che è la mia esperienza di vita. Perché comunque noi nasciamo e cresciamo in una società che ci insegna che dobbiamo essere cis. Cis è il contrario di trans, cioè chi non è trans è cis, non è una parolaccia. Quindi viviamo in una società che ti insegna che devi essere cis, che cis è la normalità, un po' come essere etero. E chi invece scopre di non esserlo e chi dice, per me questa cosa non è vera, per me questa cosa non va, suscita una sorta di rabbia nei confronti di chi invece ci crede fermamente in questa cosa e che dice, no questa cosa per me non è normale, non è normale perché io non la capisco, perché io non riesco a capire, non riesco a immedesimarmi nella tua testa, non riesco a immedesimarmi nella testa di una persona che è trans, non riesco, e quindi non lo accetto, è questo. Quando si parla di una persona trans che si identifica in un genere maschile, è una persona trans, un maschio trans, un uomo trans, un ragazzo trans. Quando si parla di una persona che si identifica come donna trans, si parla di donna trans, la persona trans, la ragazza trans, invece quello che generalmente si legge è trans ucciso, e poi vai a leggere e leggi il trans che si faceva chiamare Maria è stato trovato morto. Ora, se è una persona, cioè se si faccia chiamare Maria, ok, evidentemente, non dovresti appellarti a lei al maschile, come il problema che c'è stato con Ciro, che i giornali hanno usato il femminile, ma se si faceva chiamare Ciro, se era conosciuto come Ciro, se era Ciro, cavolo, è un uomo trans, è un ragazzo trans che ha subito una violenza. Non era l'amica di Maria Paola, non era la fidanzata di Maria Paola che da tempo si faceva chiamare Ciro. E tra l'altro una cosa che ha fatto molto arrabbiare la comunità trans è stata proprio questa cosa, il fatto della malinformazione e della disinformazione. È il lavoro dei giornalisti informarsi sulle questioni. Cioè, io non lo trovo giustificabile il fatto che tu, giornalista, mi scrivi l'amica di Maria Paola e poi ti dicono ma guarda che Ciro era un uomo trans e tu dici eh ma io non lo sapevo. Ma cavolo, è il tuo lavoro. Il tuo mestiere è quello di informarti e di informare la gente. Se tu non ti informi, mi spieghi che lavoro fai. Perché nel 2020 basta, non è più giustificabile. È semplicemente una persona la cui identità di genere non corrisponde al genere assegnato alla nascita. Ovvero, quando tu nasci, il dottore che ti visita, in base ai genitali che hai, decide se assegnarti la F o la M. Che è una questione di costrutto sociale. Cioè, letteralmente, l'abbiamo deciso noi che al pene equivaleva la M e alla vagina equivaleva la F. Poi la società ci ha costruito tutta una serie di concetti, di strutture mentali, di stereotipi di genere che ci portiamo appresso ancora oggi. Ci sono persone, come per esempio me, che in questa cosa non si riconoscono e che vanno al di fuori di questo concetto di stereotipo di genere, di questo concetto di genere conforme e dicono io, onestamente, anche se ho una vagina, non mi sento una femmina o anche se ho un pene, non mi sento un uomo e non ho voglia di stare ai vostri dettami sociali. Ho voglia di avere il corpo che voglio io, che mi scelgo io, con le caratteristiche che mi scelgo io e essere appellato con dei pronomi che mi scelgo io, con un nome che mi scelgo io. Non c'è nulla di più falso, nel senso che per essere una persona trans non bisogna fare operazioni, non bisogna fare una terapia ormonale, c'è chi sceglie di farlo. Io, per esempio, ho scelto di intraprendere una terapia ormonale da tre anni a questa parte, ma c'è anche chi sceglie di non farlo perché sono scelte personali e basta e non per questo la sua identità di genere è meno valida rispetto alla mia. Stessa cosa per le operazioni. C'è chi non ha disforia nei confronti dei suoi genitali, non prova disagio nei confronti dei suoi genitali e quindi decide di non operarsi e c'è chi invece decide di farlo perché si trova meglio, si troverebbe meglio con quel determinato genitale. Allora, io ho iniziato a capire insomma che le cose tra virgolette non andavano intorno agli undici anni, però ovviamente se nasci in un paese come l'Italia con poca informazione in questo argomento, io a undici anni ovviamente non avevo idea di cosa volesse dire essere trans, quindi non ho fatto coming out con nessuno, ma non l'avevo neanche realizzato io ancora. L'ho realizzato all'età di 16 anni quando appunto andando su internet, tramite internet ho scoperto, questa cosa ci ho scoperto, cosa voleva dire essere trans e mi sono reso conto che effettivamente era una descrizione che mi era sempre appartenuta, con la quale mi sentivo a mio agio. Il fatto che comunque non mi ero mai sentito a mio agio a essere visto e percepito dall'esterno come una ragazza, ma avrei preferito essere percepito come un ragazzo, dalla società, dal resto, ma anche da me stesso. C'è proprio l'idea di essere, anche solo per dire, anche solo l'idea di dire se un giorno vorrò figli, mi piacerebbe sentirmi chiamare papà piuttosto che mamma. L'idea mi piace molto di più, mi fa venire voglia di avere dei figli, per dire, no? Ma anche semplicemente il tutto, proprio l'essere percepito così e il percepirmi io stesso così, non solo allo specchio, ma in generale. Quindi poi con calma ho fatto coming out prima con gli amici, poi con i genitori degli amici, poi a scuola, poi con i miei genitori, poi con i parenti, con quelle cose lì. All'epoca appunto avevo 16-17 anni, ho aspettato i 18 per effettivamente iniziare la terapia. Sono andato a Genova, ho fatto tutto il percorso burocratico che c'è da fare, l'iter dissidioso che c'è. E poi a il 15 dicembre del 2017, che avevo 18 anni, un mese, cioè 18 anni e un mese, ho firmato il consenso e ho iniziato la terapia. All'epoca me la facevo a iniezione, una volta ogni 28 giorni, una volta al mese, con delle siringhe e gli ormoni. Adesso sono passato al gel, quindi è una formula appunto in gel che io mi spalmo. Allora, nella scuola dove sono andato io nel liceo fortunatamente no, nel senso che era una scuola molto aperta e non c'erano differenze di trattamento da femmine e maschi, grazie a Dio. Però comunque il sentirmi non parte del gruppo dei ragazzi, capito? Cioè comunque era una cosa che mi sono sempre trovato bene con entrambi, cioè faccio parte sia del gruppo dei maschi che quello delle ragazze, però era proprio una cosa innata, è difficile da spiegare perché è proprio una cosa innata, è una realizzazione che tu fai cavolo, sì, quello, io non so come dire, è come quando ti provi un vestito, fai shopping, è il quinto negozio in cui vai, ti provi un vestito e fai ah, cavolo, è questo, ne avrei provati 3.000 uguali identici, ma in quello ti senti a tuo agio e quindi non c'è niente che puoi fare alla fine se non accettarlo. Con la famiglia è stato semplice dopo, nel senso che subito ovviamente i miei genitori si sono preoccupati, hanno reagito magari un po' così, più che altro la loro reazione è stata dettata dalla paura, appunto perché, ripeto, su questo argomento in Italia nessuno ne sa niente, a meno che non ti vai a informare, ma chi si va a informare su una cosa del genere se non ha motivo diretto per farlo. Quindi i miei generalmente non avevano idea di cosa fosse, non avevano idea di come affrontarlo, avevano paura per la mia salute, per gli ormoni, per la questione degli ormoni, la questione delle operazioni, la questione dei documenti, la questione della transfobia. I miei genitori avevano paura che comunque io avrei avuto attacchi transfobici, che la gente mi avrebbe bullizzato, che la gente mi avrebbe, per dire anche ucciso nel senso, e quindi ovviamente la loro reazione subito è stata quella spaventata del genitore apprensivo che non sa cosa fare, però poi effettivamente da parte loro io ho avuto la fortuna di avere due genitori che hanno avuto da parte loro la voglia di capire e di intraprendere questo percorso insieme, quindi poi mi hanno sempre accompagnato. Fortunatamente non mi hanno mai aggredito fisicamente in modo pesante, più che altro le cose di tutti i giorni, per il fatto che comunque non ho i documenti cambiati, perché per cambiare i documenti c'è un iter terrificante, pazzesco, lunghissimo, bisogna avere tempo, denaro, energia, energia soprattutto mentale, questo mi porta ad affrontare una serie di spiacevoli e una serie di sfortunati eventi, dall'autista che mi ferma sull'autobus e mi chiede il tesserino e quindi io gli devo mostrare il documento e lui non crede che il documento sia mio, crede che l'abbia rubato, quindi mi chiede i documenti, io gli faccio vedere i documenti, lui si insospettisce, ad alta voce in mezzo a tutto l'autobus mi chiede spiegazioni del perché c'è scritto un nome femminile sul documento, io ovviamente devo fare coming out sull'autobus in mezzo a una cinquantina di sconosciuti, stessa cosa sul treno, ovunque, io oggi, letteralmente oggi, sono andato a votare, entro nella cabina dell'elezione, c'è la fila per i maschi, la fila per le femmine, ovviamente il tizio che stava alla fila per gli uomini stava già aprendo il registro e invece sono dovuto andare nella fila delle donne, con lo sguardo di tutti che si girano a fissarmi come per dire ma non ha letto, non sa leggere, poi vabbè oltre a online, io comunque ho sempre fatto attivismo, sono sempre stata aperta nelle questioni sull'essere trans, quindi minacce, insulti online ne ho ricevute a Iosa, episodi spiacevoli ne ho avuti. Sicuramente in meglio da un punto di vista psicologico, perché se no non l'avrei fatto, cioè se fossi stato a posto con la mia identità di genere non avrei transizionato, quindi sicuramente dal punto di vista psicologico della mia psiche è cambiata in meglio e poi è cambiata in meglio anche nella vita di tutti i giorni perché comunque quando stai bene con te stesso e con il tuo corpo e con la tua testa vivi anche meglio, sei più sereno, sei più tranquillo, i tuoi amici sono più tranquilli a stare con te perché ti vedono più sereno, i miei genitori mi vedono più sereno, cioè ti puoi costruire una vita quando stai a posto. Poi è cambiata anche da un punto di vista di un sacco di concetti mentali, di strutture mentali che mi sono reso conto di avere, che ho smantellato, cioè tutte quelle cose che ti dicono perché se sei una donna devi fare così, se sei un uomo devi fare così, quando sei trans queste cose crollano perché dici ma perché devo far così? Perché chi l'ha detto? Cosa cambia? Nulla. E allora perché lo faccio? Quindi un sacco di cose che ti accorgi e che smantelli. Sicuramente sì perché comunque appunto Sanremo è una città piccolina comunque dove bene o male tutti si conoscono tra di tutti, è cambiata sicuramente molto. Poi essendo io un giovane universitario a Sanremo non è che hai tutte queste opportunità anche di svago magari la sera, più che altro non ci sono realtà queer a parte l'Archigay qua a Sanremo. A Firenze solo di collettivi queer, queer significa non etero e non cis, quindi tutto quello che non è cis etero, di collettivi queer a Firenze ce ne sono una miriade quindi tu hai la scelta, capito? Tu puoi scegliere in quale andare a Sanremo o vai all'Archigay o non vai all'Archigay. A Firenze io vivo in una casa con altri sette coinquilini e sono tutti trans, la mia ragazza è trans quindi siamo tutte persone trans per cui alla fine mi trovo molto meglio rispetto a qui che invece devi trovare e devi andare a cercare le persone trans. Innanzitutto di farsi forza perché non c'è un'altra cosa che puoi fare se non appunto farti forza, sperare e pensare che comunque andrà bene e sembra una frase fatta però è così prima o poi andrà bene. La vita ti porta a a risolvere le tue cose anche interiormente. Il consiglio che posso dare è se non si è nella vita reale in un ambiente costruttivo in un ambiente accogliente in un ambiente comprensivo di cercare di non rimanere nella solitudine di non chiudersi all'interno delle mura di casa propria e non perdere la speranza ma piuttosto di andare a cercare forum online piattaforme tramite i social anche io che ho avuto la fortuna di avere genitori comprensivi che non mi hanno cacciato di casa ho ospitato ragazzi in casa mia che invece non hanno avuto questa fortuna. Allora io penso che è già tardi era già tardi ieri questa legge doveva essere fatta cioè negli anni 60 onestamente per quanto mi riguarda è una legge che è giusto che esista non è una legge completa non è una legge come dovrebbe essere è un po' le briciole che ti danno per darti il contentino però ora come ora il governo che abbiamo ora non è che ci possiamo aspettare tanto di meglio noi ne siamo pienamente consapevoli una tutela ma anche sembra una cavolata perché le persone che hanno il privilegio di avere una legge di avere le leggi che stanno dalla tua parte e di avere dei diritti non se ne rendono conto ma una legge così è anche solo lo Stato che riconosce che esistiamo e non è una cosa è una cosa che le persone danno per scontato ma noi no perché ad oggi lo Stato non ci prende neanche in considerazione fare una legge che tuteli le persone LGBT non è solo una legge che innanzitutto ci tutela che è assurdo che non ce l'abbiamo punto uno punto due è una legge che dice apertamente che lo Stato italiano prende atto dell'esistenza delle persone non è roba da poco è tardi che si sia fatta ora doveva essere fatta anni fa perché esistiamo dall'alba dei tempi perché viviamo in una società transfobica sì sì perché viviamo in una società transfobica perché è più comodo evitare di parlare di queste cose perché parlare di queste cose significa parlare del fatto che in Italia abbiamo un problema ammettere che le persone trans vengono uccise vuol dire ammettere che in Italia c'è un problema di transfobia vuol dire ammettere che le persone italiane sono transfobiche è successa la stessa cosa con il razzismo ammettere che le persone di colore vengono discriminate vuol dire ammettere che in Italia c'è un problema di razzismo vuol dire ammettere che in Italia le persone sono razziste e questa cosa ovviamente italiani gente brava non lo si vuole ammettere fa comodo non ammetterlo perché tanto siamo persone invisibili tra dieci anni mi vedo spero con più barba punto uno che sto cercando di averla da tre anni ma non mi sta crescendo per motivi di genetica miei e spero di avere una vita felice felice appagata di vivere ancora con la mia compagna magari di sposarmi mi vedo spero in Canada onestamente perché ora come ora mi dispiace dirlo ma non voglio stare in Italia e questa è una realtà che molte persone trans vivono cioè tutti i miei amici sperano da qui a dieci anni di non essere più in Italia quindi spero di essere in Canada che è un paese in cui mi piacerebbe vivere dove potrei adottare effettivamente niente mi vedo ad avere un lavoro che mi piace di avere una mia famiglia in un paese che mi riconosce e riconosce i miei diritti grazie grazie grazie